Dopo aver disputato tre gare in otto giorni, l'Alzano Cene si prepara ad affrontare il Cantù. I ragazzi di Mr. Piantoni hanno conquistato ben sette punti, ma il Tour de Force ha richiesto grandi energie e concentrazione, che certo non potranno mancare domenica al Carrillo Pesenti-Pigna. Sotto l'aspetto della concentrazione penso che non sarà molto difficile da allenare. Sotto l'aspetto del dispendio dell'energia invece in queste tre gare qui abbiamo sprecato parecchio. Vedremo un momentino di sistemare al meglio la settimana con dei recuperi. La settimana che è corta, domenica ci giochiamo la gara interna con il Cantù, che ha un sapore abbastanza importante visto che è una squadra che è almeno all'altezza della nostra classifica. Il pareggio con la Colognese e le vittorie con l'Atrizium e l'Oltrepo hanno sicuramente dato morale alla squadra, che a quota 30 punti si porta nuovamente in zona play-off a 11 punti dall'Atrizium capolista. Io ho detto di cancellare il nome Atrizium perché non compete con noi, fa un altro campionato. La mia squadra non voglio paragonarla né all'Oltrepo, né all'Atrizium né al Pizzighettone. Quello che mi interessa è che la squadra disputi in campo le gare a secondo di quanto facciamo durante la settimana. Poi rispettiamo tutti quanti e ce la giochiamo contro tutti quanti. Una cosa è stata importante è che la prima gara abbiamo preso due gol e ne abbiamo fatti due. La seconda gara abbiamo preso ancora un gol anche su calcio di rigore e oggi anche sotto quell'aspetto non abbiamo preso gol. E anche qui mi dà qualche piccola speranza di poter continuare a lavorare con la metodologia che stiamo usando in questo momento qui soprattutto nella parte lavoro, quindi nella parte della nostra applicazione settimanale.